Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video tutorial sui dispositivi MIDI. Il dispositivo che descriverò oggi è l'Arturia Beatstep. Eccolo qua l'Arturia Beatstep. È un dispositivo secondo me meraviglioso e geniale. Il Beatstep ha due funzioni principali. Funzione di controller MIDI e funzione di sequencer. Tutte e due utilizzabili con lo stesso dispositivo. Questa è la cosa secondo me geniale perché con un dispositivo ne abbiamo due. Naturalmente non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui tutorial e su tutto ciò che inserirò all'interno del canale. Video musicali e qualsiasi altra cosa. Passiamo ora praticamente a vedere come il Beatstep può essere gestito e come il Beatstep lavora sulle DAW. La DAW che utilizzo io è Ableton perché mi dà la possibilità di lavorare in live performance come potete vedere. Ecco qua il nostro Beatstep con i nostri 16 pad, 16 knob. Il knob più grande utilizzabile per bar di trasporto o per qualsiasi altra cosa. Pulsante di stop, pulsante di start e 6 pulsanti di gestione interna delle memorie e di altre funzioni del Beatstep. Una cosa interessantissima del Beatstep è la possibilità di avere anche l'uscita MIDI out. Quindi noi nel Beatstep non abbiamo soltanto l'uscita USB da collegare su computer, PC, Mac o qualsiasi altra cosa, ma anche un'uscita MIDI out che può essere per esempio utilizzata con un sintetizzatore o addirittura con strumenti analogici avendo anche il gate e il CV out. Quindi è davvero molto versatile. Oltre questo una delle cose che mi ha fatto scegliere l'acquisto dell'Arturo a Beatstep è la possibilità per esempio di utilizzare il sequencer insieme alla gestione del iController. Quindi premendo per esempio questo tasto, quindi tasto sequencer, si avvia la schermata del sequencer. I 16 pad diventano 16 note che possono essere selezionate o non selezionate ad esempio. Questo vuol dire che la nota non suonerà e ogni nota possiamo farla corrispondere a ciò che vogliamo. Quindi in uscita possiamo collegarlo a una drum machine piuttosto che a un synth, piuttosto che a una tastiera, piuttosto che ad esempio a un basso. Premendo play possiamo vedere che il Beatstep parte e crea la sequenza che noi abbiamo disegnato premendo i pad. Quindi suoneranno le note in blu, quindi le note illuminate, e le note non illuminate non suoneranno. Altro vantaggio che noi possiamo tramite i knob, possiamo scegliere la nota che suonerà il pad. Quindi muovendo il knob ci renderemo conto che il suono cambierà. In più abbiamo una serie di funzioni, premendo il tasto shift ad esempio, possiamo scegliere la scala che più ci piace, una scala cromatica maggiore, minore o altre. Abbiamo anche le scale personalizzabili, personalizzabili dal MIDI control center. Oppure abbiamo, qui non si vede perché ho messo delle mie etichette, abbiamo la possibilità di muovere il sequencer, quindi decidere quale sarà il percorso del sequencer. Ad esempio, premendo il secondo pad, il pad numero 10, il sequencer andrà in modo contrario. Premendo il pad numero 11, il sequencer creerà una sequenza di andata e ritorno, quindi andrà e tornerà suonando le note che abbiamo selezionato. Oppure, una modalità che io utilizzo davvero spessissimo, è la modalità random. Questa la trovo molto utile nel momento in cui la utilizziamo, utilizziamo il sequencer come drum pad. Cosa fa questo? Assegnando delle note e quindi dei suoni di batteria, lui ci suonerà il loop in maniera completamente random, quindi crea delle situazioni, dei loop di batteria assolutamente nuovi e interessanti. E qui notiamo anche una cosa molto utile, cioè il fatto di poter utilizzare la parte sequencer in simultanea con la parte del controller. Ritornando in modalità controller, abbiamo la possibilità di gestire i controlli che abbiamo preimpostato sul nostro MidiCenter. Questa è una situazione, secondo me, geniale da parte di Arturia, perché ha creato all'interno di un dispositivo due dispositivi distinti. Adesso proviamo a vedere come è possibile personalizzare e quindi gestire una DAW, quale può essere Ableton, con il nostro Arturia Bitstep. Eccoci alla schermata di Ableton, la classica schermata di inizio, con due tracce MIDI, due tracce audio, reverbero, delay e master. Una cosa importante alla prima configurazione del Bitstep è quella di impostare il Bitstep all'interno delle preferenze di Ableton. Quindi accediamo alla scheda Link MIDI, assicuriamoci che il Bitstep sia inserito come superficie di controllo, sia come ingresso che come uscita e che come superficie di controllo, e che le porte MIDI siano come input attive con traccia e con controllo remoto, e come output sia attivo il sync, la sincronizzazione, così da poter far partire il sequencer in sincrono con il play di Ableton. Come impostazione predefinita una volta attaccato all'USB, il Bitstep ha la funzione di gestione delle clip, quindi della matrice. È chiaro che nel momento in cui noi vogliamo utilizzare il controller per gestire più parametri, dovremo impostare i pad e i knob a nostro piacimento. Per questo vi rimando al video del MIDI Control Center, che è l'applicativo che gestisce l'Arturia Bitstep, dove do alcune informazioni per come configurare correttamente il vostro dispositivo. Passiamo alla parte pratica. Io ho già preimpostato una mia memoria all'interno del Bitstep, che verrà richiamata premendo il tasto recall e selezionando il primo pad. In questo modo il mio Bitstep ha i parametri che ho selezionato io. Come ho detto prima, la genialità dell'Arturia nel costruire il Bitstep è stata quella di pensare a un unico dispositivo che potesse gestire più cose, quindi possiamo gestire il sequencer e i controlli. Proviamo adesso a far partire una sequenza di note utilizzando la sincronizzazione che abbiamo impostato precedentemente. Quindi armiamo la traccia e armiamo la traccia utilizzando la parte controller. Quindi io ho preimpostato il pulsante, il secondo pad che accende l'armatura nel Bitstep e ho preimpostato che la prima clip venisse registrata con il pad numero 10. Quindi possiamo adesso spostarci nella parte sequencer, premendo il tasto CTRL sequencer e attiviamo la sincronizzazione esterna premendo il pulsante External Sync. In questo modo, nel momento in cui facciamo play su Ableton, partirà il sequencer sul Bitstep. Proviamo adesso a registrare una sequenza. Quindi cosa facciamo? Mando in play e modifico le note del sequencer con i knob associati. Molto bene, è chiaro che il giro che ho impostato, quindi il pattern che ho impostato di basso, adesso è completamente random, quindi le note non sono scelte. Sul MIDI Control Center avremo la possibilità di impostare un pattern e utilizzarlo in questa modalità, richiamandolo come abbiamo fatto con l'impostazione precedente nel controller. Proviamo adesso a far partire la registrazione con il sequencer. Andiamo in controller, premiamo il pulsante relativo per registrare nella prima clip. ed ecco qua abbiamo registrato il nostro sequencer. Se una volta attivato, disattivato, scusatemi, l'External Sync, la nostra clip partirà in automatico, registrando le note che abbiamo registrato precedentemente. Come potete vedere, Ableton ha registrato le note che noi abbiamo selezionato e abbiamo già automaticamente mandato il loop, già quantizzate ovviamente, perché le avevamo quantizzate dall'altra parte. Naturalmente sul sequencer possiamo fare anche un'altra cosa. possiamo selezionare le note che vogliamo far suonare e registrarlo come abbiamo fatto adesso. Quindi torniamo nella parte sequencer e deselezioniamo, quindi premendo i pad, deselezioniamo alcune note. Proviamo a mandarlo in play. Ecco qua, abbiamo deselezionato dei pad e quindi quelle note non suoneranno. Riattiviamo l'External Sync in modo da poter sincronizzare registrazione e Ableton e torniamo alla modalità control. Premiamo il nostro pad per registrare. Come avete potuto vedere ho fatto una serie di attività sul beatstep che mi hanno dato la possibilità di registrare la clip stoppare la registrazione dove volevo io prima avevo anche modificato il volume con il primo knob come potete vedere adesso in più ho anche disattivato il sequencer in modo da poter magari programmare per una clip, per una nuova registrazione, un'altra clip il nostro sequencer. Naturalmente ricordiamoci che nel momento in cui premiamo il tasto External Sync in questo modo noi abbiamo attivato la sincronizzazione con la nostra DAW in questo caso è il Ableton. Una volta disattivato il sequencer continuerà ad andare ovviamente quindi dovremo stopparlo con il pulsante di stop così da poter bloccare il nostro sequencer. Adesso che avete scoperto le funzionalità del beatstep sono convintissimo che andrete anche voi a cercarlo anzi, sotto nella descrizione troverete il link dove potrete acquistare l'Arturia Beatstep. Ricordatevi di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati e seguire tutti i video che verranno postati. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.